benvenuti su daze e c'è già uno zombie lì che fra un po' mi guarda vado giù per chi non lo sapesse daze è nato come mod di arma 2 io sono un mezzo fan di operation flashpoint che sarebbe il prequel di arma però arma l'ho giocato poco che si deve fare in daze e che vuoi fa sopravvivere a un'ordata di zombie come vedete dalle concili a destra bisogna trovare cibo acqua riparo c'è un accampamento militare solo che mannaggia la miseria non so se riesco ad avvicinarmi perché sono senza niente ecco questi sono i server di daze che mi piacciono dove non hai nulla se non una cosa di painkiller una cosa di bende e il flare per la notte però sono già vicino a una base militare ma guarda che culo attenzione bolt bolt il distacco per chi se lo stesse chiedendo questo è vanilla daze è un server di daze leggermente modificato ma è la mappa principale cernarus sto veramente entrando nella base militare senza armi senza niente c'è qualcosa qua colpi per il fucile che non ho lattina di soda vuota lattina vuota in generale è che belle cose fosse stato mcgyver magari mi diceva lui cosa fare con quelle lattine vuote posso entrare qui no no non posso entrare zombie mi ha visto mi ha visto e niente devo correre dove vado nel capannone no permesso 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 però adesso sono circondato mentre loro sono lì io scappo sono ricastrati perfetto ho trovato un unico pesello dove le case sono tutte quelle chiuse fa nullissimo tanto vale andare a base militare senti se non trovo niente buco no buco no buco no E ci chiudiamo dentro Una pistola Oh la 1911 infatti E' proprio lei Però sono senza colpi Oh no Ho trovato l'M10 Che è uno dei fucili più stupidi Oh cibo e acqua Vabbè io l'intanto le munizioni Munizioni a caso le prendo Mi sono leggermente spaventato E sono morto Porca Eva che spavento Non è stata una buona idea Entrare direttamente nella base militare senza niente E si ricomincia Cos'è successo qui Il cancello è stato posseduto da un poltergeist A differenza di WarZ però C'è un altro giocatore C'è un altro giocatore che però non ha niente neanche lui Aspetta che Con quale tasto parlavo già Devo guardare subito i tasti Ma mi hai portato gli zombie Mi hai portato gli zombie Eh mi stai parlando ma io non mi ricordo i tasti I don't remember the tests Au mi ha colpito He hit me Non mi ricordo il tasto Devo troppo cercare i tasti per parlare con le altre persone Sì però sei un po' uno stronzo Mi hai portato tu gli zombie Perché se hai la faccia truccata come William Wallace Dobbiamo appartar Niente non riusciamo ad appartarci No mi vuole Io io no io Dammi a me dammi 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 a me le cose Dammi a me Prendo io No me l'ha presa lui bastardo Bastardo mi ruba anche il cibo Mi ciola il cibo Siamo salvi amico siamo salvi Puoi fermarti You can't stop now Don't stop me now If you have such a good time You have enough for Devo andare giù perché io non mi Ecco Mo sono tutti i tuoi Però arrivino da te non da me Arrivederci è stato un piacere Oh eccolo qua il tasto E lo E lo Finalmente E adesso però sono circondato da stronzi E come faccio E faccio l'unica cosa che un uomo sensato può fare Watch your mark Jet set Portaci i vostri Via Adesso mi vedranno tutti quanti Non me ne frega niente Mi fico nel capannone tanti saluti E però non c'è niente nel capannone Che sfuga No no non venire da me Devo aprire la porta Fai aprire la porta Vai dentro Yes Yes E prendo anche il cibo Veloce Veloce che è lì fuori Veloce che è lì fuori Ah Oh quanto mi mancava giocare a Deids Ci giocavo con un mio amico Stefano Ma ci avremmo giocato un sacco di tempo E vabbè ma è pieno qui Apri le porte Apri le porte Permesso Ma no c'è uno zombie dentro Però aspetta ho trovato robe Uh Aspetta Caricatore Makarov E caricatore per Il Il fucile C'è chi no Oddio Eh sì Eh mi sa che per me è la fine Però adesso la porta è libera Va per la porta Ci riesce Ce l'ho fatta Però io non voglio essere nel complesso industriale Fammi andare nel residenziale Che è meglio Però io voglio almeno un'accetta Almeno un'accetta Ma non è una gara Si levi Anche la chiesa di solito c'è qualcosa Perché c'è del fumo lì Tra l'altro alla stazione dei pompieri E c'è una capra Hello Hello friendly friendly Don't shoot me Please help Sono altri giocatori Please help me Hello Please Non mi aiutano Perché non mi aiutano C'è un elicottero Hello Please help me I'm an italian youtubers How are you The cat is on the table C'è una riunione di condominio lì Hello Cosa succede Sono entrato nella stazione di polizia Tipo dei pompieri dovrebbe essere Solo che Adesso fuori è pieno di zombie Io non ho un'arma Se non trovo qualcosa a questo piano Sono fottuto Hello Friendly friendly Oh Piece of shit No aspetta Sono ancora vivo io Non sono morto Sono ancora vivo Ho metà vita Ma sono ancora vivo Sono solo svenuto per i colpi Hello help me please Please help me Sono vivo Sono vivo Però devo Devo mettermi Subito le bende 2700 2600 2640 2500 Ok ho 2500 di vita E vedo in bianco e nero Perché ogni volta che ti si abbassa la vita Vedi in bianco e nero E ci sono gli zombie Nessuno mi vuole aiutare Perché nessuno mi vuole aiutare È dato un film di Hitchcock Non vedo niente Mi rifugio in chiesa E trovo la fede Di essere Merda Stanno arrivando Mi sono sacrificato In Days È obbligatorio Cantare Tra un viaggio e l'altro Perché Nonostante la mappa sia grande Ci sia un sacco di cose Da visitare Le strade sono comunque lunghe Tra un posto e l'altro Belle da vedere Per l'amor di Dio A me piace un sacco Come è montato Non tanto la grafica Quanto proprio La forma dello scenario È molto più realistica Di robe tipo Day Di robe tipo War Z All we need is Radio Gaga Radio Gugu Radio Gaga Però così non arrivo più È meglio se cambio canzone Permesso Buongiorno Bisognerebbe anche Per esempio Trovarsi un veicolo Perché ci sono È pieno di veicoli Dimmi che la chiesa È di quelle che si apre Dimmi che la chiesa È di quelle che si apre Ti prego Ti prego Ho bisogno di un luogo Dove riposare E quelle che non si apre No ma non ci credo Queste sono quelle case Quasi tutte chiuse Ma no 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 Perché Se un povero deficiente Si deve nascondere Come fa Il cibo qua Eh però fammelo prendere Dai che forse riesco a sfuggirgli Una casa in cui si può entrare Uno zaino Oh A parte che Chiudiamo le porte subito Però se non c'è niente È la mia fine Una No Non ci credo Un coso per la benzina È uno zaino Eh no No è la mia morte No devo Devo uscire Devo uscire Devo uscire Porca Eva Buonasera Le faccio un caffè Devo prendere questo zaino subito Oh E almeno lo zaino l'ho preso Apro la porta e vado via Ce l'ho fatta Sono vivo Sono vivo con uno zaino È già un punto a nostro favore Vado verso il complesso industriale Forse lì mi dice culo Sono arrivato Semi vivo In seguito da una mandra di 70 zombie Però potrei seminarli qua Come al solito Ho trovato Aspetta aspetta Più di porco Dimmi che posso usarlo come arma Dimmi Che posso usarlo come arma Aspetta Proviamo a ucciderlo Proviamo a ucciderlo Non lo sto colpendo mai L'ho colpito L'ho colpito Ho perso di nuovo Tutto quello che avevo preso Vabbè senti Mangiamo un altro snack Però si può fare Si Può Fare Merda mi ha visto C'è uno snack qui Aspetti U Presa sto giro Morici U U Funzia Funzia E io da questo Cappannino Sperduto Nell'entroterra Di Cernarus Direi di Di finire qui Il E che roba è Di Days Nei prossimi giorni Arriveranno Le che roba è Di State of Decay E le che roba è Di Seven Days to Die Vi ringrazio per essere Sopravvissuti con me In questo delirio E ci vediamo con il prossimo E che roba è E ora dove cavolo Mi trovavo E che roba è